Il momento non è dei migliori, i problemi che affiggono il settore sono elevatissimi, dalla fauna selvatica, ai maggiori costi delle materie prime, del gasolio, dei concimi, cioè tutto concorre a rendere più difficile la vita degli agricoltori. Rincari dei concimi al 300%, di mancimi e fertilizzanti al 170%, insomma prezzi alle stelle ai quali poi si sommano i danni causati dalla fauna selvatica da tempo ormai fuori controllo. Così decine e decine di agricoltori da Arezzo sono pronti alla mobilitazione. In provincia di Arezzo abbiamo una elevata qualità dei prodotti agroalimentari, c'è un'efficienza, un'eccellenza incredibile nel nostro territorio che dobbiamo rappresentare. Mercoledì 20 aprile gli agricoltori e aretini partiranno per raggiungere Venturina Terme, sede scelta dalla CIA Agricoltori Italiani per la terza ed ultima manifestazione interregionale. Manifestiamo per portare alla sensibilità della politica e delle istituzioni dei livelli superiori i problemi anche del settore agricolo aretino. Noi vogliamo contribuire alla crescita e alla rinascita di questo paese che ci viene chiesto di produrre, di produrre di più per soddisfare anche i bisogni interni del mercato per limitare le importazioni dall'estero. Per far questo sicuramente un'attenzione lo dobbiamo avere al caro dell'energia, al caro dei prezzi del gasolio e al caro dei concimi che ovviamente ci mettono in difficoltà le nostre imprese. Ma dobbiamo anche iniziare a dare delle risposte immediate intanto alla disponibilità della risorsa acqua che è un elemento strategico per poter davvero incrementare il settore produttivo anche della provincia aretina.